Rimane difficile la situazione nelle case di riposo della bassa padovana che contano numerosi decessi e casi di positività al covid-19. Nel fine settimana altri due anziani di 79 e 82 anni di Montagnana e Monselice, ospiti a Merlara, hanno perso la vita. Uno era ricoverato all'ospedale di Schiavonia, l'altro ancora ospite della struttura di Merlara, dove almeno una quindicina di ospiti sui 73 totali sono stati coinvolti dalla pandemia. Dieci non ce l'hanno fatta, gli altri sono stati trasferiti a Schiavonia. A Monselice invece risulterebbero 25 ospiti positivi, a Galzignano 32. Va detto che per molti tamponi effettuati manca ancora l'esito e ci sono positivi anche tra i dipendenti delle strutture, compreso il personale sanitario. Dalle case di riposo, specie da quella di Merlara, parte l'appello per un aiuto e un interesse maggiore da parte della Regione e del Governo e per una fornitura più adeguata di dispositivi di protezione. Grazie. 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 Grazie.